Sindaco Truzzo, domani il Premier a Cagliari, cosa ha intenzione di chiedergli? Il Premier domani a Cagliari sarà per avviare il tavolo istituzionale del contratto di sviluppo, poi spero che ci sia anche l'occasione per poter parlare del tema del porto, che è un tema che sta a cuore ai cagliaritani. Come ho già avuto modo di scrivere, non stiamo chiedendo un elemosico, ma stiamo chiedendo investimenti, stiamo chiedendo che si superi il vincolo e che si crei una sanatoria per il porto canale, ma non tale che ci sia la possibilità di sviluppare investimenti importanti per la città e per la sanità.